Buonasera, benvenuti alla ventesima edizione dell'Iskia Film Festival. La prossima proiezione che andiamo a vedere si chiama The Wheel di Metin Aour ed è un corto in concorso della durata di 14 minuti girato in Turchia. Abbiamo qui appunto Metin, il regista della pellicola, che invito a salire qui sul palco, a venire con me, insieme a Luna Di Meglio, la nostra interprete. Eccoli che arrivano. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito qui all'Iskia Film Festival. Entriamo già nel cuore della presentazione. Chi sono Bauer e Ebon? Buonasera e grazie. Buonasera e grazie. perché non ci sono capace di avere la città di un lavoro, ci siamo iniziati a fare una città di un lavoro. In questi giorni ho cercato a fare un lavoro di un lavoro e una nuova. Il nostro lavoro è un lavoro di un lavoro che si avessero a casa. Con l'anno della scoperta di una scoperta di un lavoro di un lavoro qui ha fatto una scoperta di un lavoro. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Daver e Hebon sono i protagonisti. Il corto è ambientato negli anni 90 in Turchia. All'epoca vi era una situazione di terrore di stato in questo paese. I ragazzi trasferitisi in città tentano di supportare le loro famiglie vendendo dei giornali. E c'è da dire che molti dei familiari di questi ragazzi erano imprigionati per ragioni politici e alcuni addirittura assassinati. Questi giornali ufficialmente erano permessi dallo Stato, anche se quest'ultimo aveva dichiarato lo Stato d'emergenza, in maniera tale da poter tenere sotto controllo il paese. Quindi per sembrare democratici permettevano la stampa di questi giornali, ma in realtà era illegale venderli. Questi bambini correvano pertanto grandi rischi e dovevano essere molto creativi per introdurre di nascosto questi giornali in città. Vi erano tra l'altro molti checkpoints e per aggirarli tentavano di nascondere questi giornali in bus con altri prodotti e loro stessi si travestivano facendo finta in realtà di fare altri lavori. E c'è da dire che anche essendo bambini nel momento in cui essi fossero stati arrestati sarebbero stati torturati. Il tutto è quindi molto pericoloso. Il popolo era molto oppresso sotto il regime e i bambini facevano un lavoro importantissimo perché con la vendita di questi giornali raccontavano la verità. Grazie. Ok, sì, quindi come ha anticipato il film è ambientato negli anni 90. Ci parli un po' del cambiamento che c'è stato nella politica. Qual è la situazione? Come è cambiata la situazione politica kurda da allora? Grazie. 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 Al momento nulla è cambiato. Negli anni 90, ad esempio, fu stato bombardato l'edificio centrale di questo giornale e all'epoca alcuni giornalisti tra il 1991 ed il 2000 sono stati imprigionati, altri uccisi. E c'è da dire che oggigiorno purtroppo non è cambiato nulla. Solo due settimane fa 22 giornalisti sono stati arrestati, passando otto giorni in galera e 16 di loro non avevano alcuna ragione per essere lì. Negli ultimi mesi, inoltre, hanno chiuso un altro giornale e continuano a tenere l'intero paese sotto controllo. Prima tendevano ad assassinare le persone. Lo Stato, purtroppo, nel frattempo è diventato più furbo. Tagliano loro i fondi. Quindi, come dicevo, nulla è cambiato da allora. Lei quale pensa che sia il potenziale e il dovere del cinema in queste situazioni? Cioè, in situazioni di questo tipo, cosa può fare il cinema e cosa dovrebbe fare il cinema? Cioè, in situazioni di questo tipo, cosa dovrebbe fare il cinema? Cioè, per un'esperienza di attività un po' saranno effettuati, le donne che ci sono evso che seguono le poperne per comb περιi pchussi e l'innovazione. Però, nel realismo, nelpraccio non è un po' sarannoق o le donne che si avremmano accogli in queste situazioni. Il cinema è per me pertanto uno strumento fondamentale per condividere i miei pensieri. L'ironia è che talvolta si può urlare quanto si vuole, ma nessuno può ascoltare, quindi il cinema permette proprio questo, motivo per cui reputo sia uno strumento fondamentale. L'Istia Film Festival è il festival delle location, che ruolo riveste la location all'interno della sua opera? L'Istia Film Festival è il film, ma anche sul del mondo, ma anche il suo carattero, anche se si ruricano. grazie a tutti la location per me è molto importante di fatti uno dei fondatori del giornale Musa Anter è stato assassinato nel luogo dove è stato girato il mio film anche un giornalista Hafez Akdemer è stato assassinato lì motivo per il quale è presente a lui un tributo all'interno del mio cortometraggio ho tentato di rendere il tutto quindi molto realistico la location come dicevo è quindi fondamentale io voglio ringraziare Metin Aure e la preziosissima Luna Di Meglio per essere stati qui con me a presentare questo cortometraggio e vi auguro una buona visione buona serata grazie 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 grazie